Torniamo oggi a vestire i panni della setta dei libri per la lettura di febbraio 2022. Iniziamo! Amici bentornati sul canale, bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga film e telefilm. Siamo inizio mese quindi questo significa che andiamo a parlare della lettura del mese precedente fatta col club del libro La setta dei libri e stiamo parlando quindi della lettura ragazze elettriche. Prima però di parlare di questo libro ovviamente come sempre parliamo prima della autrice. Naomi Alderman è nata a Londra nel 1974 ed è cresciuta in una famiglia appartenente alla comunità degli ebrei ortodossi. Ha studiato e si è diplomata e laureata al South Hampstead High School e al Lincoln College di Oxford per poi trasferirsi in America per seguire poi un corso di scrittura creativa. Sin da quando era più piccola ha sempre combattuto per i diritti delle donne quindi è stata un'attiva femminista e a quello che ho capito lo è tuttora perché questo suo impegno lo trasferisce anche all'interno delle sue opere. Il suo esordio avviene nel 2006 con disobbedienza col quale ha vinto l'Orange Prize for New Writers e poi nel 2017 viene trasposto in pellicola. Nel 2011 la vediamo scrivere un libro su Doctor Who, un romanzamento, in Doctor Who, Borrowed Time. Pubblica poi nel 2017 il suo quarto libro che è appunto Ragazze Elettriche che le vale quindi il Bailey's Woman's Prize for Fiction. La Alderman è anche un'autrice di videogiochi e una sviluppatrice di app. Il libro quindi di cui parliamo oggi è proprio Ragazze Elettriche che arriva in questa brossura molto morbida ed è bellissima tenere tra le mani perché veramente è morbidissima. Ha la copertina molto lucida, liscia, le pagine sono molto sottili e questa è una particolarità che mi è piaciuta molto. Pubblicato dalla narrativa Notte Tempo Edizioni con un costo di 20 euro ed è una copertina particolarmente roscia. La storia all'interno è veramente particolare. Sembrerebbe per chi magari è entusiasta molto, forse troppo entusiasta dell'argomento, quasi un proclama del femminismo. Ma andiamo con ordine perché ci sono tante, ma veramente tante cose da dire a riguardo. La narrazione è quella, possiamo dire, tipico fantasy distopico o del fantascientifico distopico, ma in realtà di tipico non ha praticamente niente. Questa storia viene sviluppata in un futuro appunto distopico che non sembra tanto lontano da quelli che sono i giorni nostri, considerando anche che questo è uscito quasi 5 anni fa. Ed è una narrazione che si sviluppa come se dovesse seguire una specie di countdown di cui noi non abbiamo una reale percezione iniziale, ma che poi ce ne rendiamo conto quando a lungo andare nei capitoli vediamo 10 anni prima, 9 anni prima, eccetera eccetera. Quindi è una narrazione che ci spinge a capire che i fatti che vengono raccontati servono per arrivare a un qualcosa che accadrà dopo 10 anni. Fin qui tutto bene. I capitoli sono poi sviluppati seguendo quella che è la narrazione e quindi il focus di alcuni personaggi. La maggior parte di questi personaggi sono femminili e quello che qui raccontano, sfruttando quindi il focus di ogni personaggio, è un evento particolare che accade in contemporanea quasi su quasi tutto il pianeta. Quindi sfruttando il fatto che si parli prendendo il posto di uno di questi personaggi in realtà è una chance in più per andare a investigare, a scoprire quello che succede quindi in più parti del pianeta. Non ci concentriamo quindi sempre nel solito occidente, soprattutto nell'occidente americanizzato, ma anche in altri punti del pianeta molto focosi dove appunto le tematiche femministe sono quasi ancora più pure rispetto al mondo occidentale. Nel fare questo quindi veniamo a sapere che all'improvviso le donne hanno sviluppato una strana abilità, un'abilità che le mette in grado di produrre elettricità dalle mani. Questa capacità inizialmente spaventa come tutte le cose nuove e come tutte le cose nuove quindi mette anche in pericolo non solo chi riceve questa scossa elettrica perché non si è ancora consce e consapevoli di quella che sono le proprie capacità ma mette in pericolo soprattutto chi questa elettricità la produce perché viene ovviamente etichettato come diverso e il diverso ovviamente è sempre pericoloso. Ciò che si prospetta è quindi quasi una divisione del mondo tra uomini e donne perché ad essere in possesso di questa capacità sono in prevalenza le donne, gli uomini sono veramente una piccolissima infima minoranza, una minoranza che è vista male non solo dagli uomini perché vedono i loro compagni con questa abilità meno uomini di loro ovviamente ma poi ovviamente dalle donne perché se c'è una cosa che finalmente caratterizza le donne come se non ci fosse altro a caratterizzarle ma nella fiction è così, nella finzione narrativa è così e poi si deve mettere in mezzo sempre l'uomo ovviamente devono essere messi da parte e controllati. Quello che quindi accade in questa narrazione che possiamo definire a grappolo sparso a macchia di leopardo è che appunto veniamo a sapere di queste abilità e anche dell'organo che sembra svilupparsi all'interno delle donne vicino alla loro clavicola e che quindi rende questa capacità possibile loro. Il problema succede quando di questa capacità iniziano a farsene gli usi più disparati. Se in occidente si tenta quindi di controllare questa capacità creando dei campi che sembrano di concentramento ma che in realtà vengono raccontati come dei campi di addestramento invece dall'altro lato dell'oceano accade il contrario proprio perché se in occidente la donna è meno subissata rispetto alle compagnie medio orientali e del lato possiamo dire asiatico russofono la situazione ovviamente è diversa perché le donne lì sono veramente ai margini della società relegate a dei ruoli prestabiliti che nella società non hanno alcun peso proprio perché è l'uomo a decidere. Ciò che quindi fa la Alderman è creare un mondo delineandolo con quelli che sono i concetti a noi più vicini perché fanno parte del nostro quotidiano di quella che praticamente la società di oggi società ovviamente per esteso non nella società italiana la società americana ma in generale. Uno dei tanti temi che vengono trattati è anche il tema della religione. Religione che ovviamente viene presa di mira come religione cristiano-cattolica. Sa va san dire. Perché? Perché è quella che viene accostata ovviamente perché è una costola e ne nasce da quella giudaica e quindi da quella con la visione più patriarcale togliendo poi anche le altre che è bene che non nomino. Però ovviamente questo pseudo attacco che io nelle stories di Instagram sul commento del terzo step ho indicato come un attacco al Vaticano ma per indicare la realtà è un attacco che viene fatto a partire però dalla Bibbia quindi dalle scritture e in un certo senso visto anche la provenienza familiare della Alderman mi sarei aspettato forse un po' più di credibilità in quelli che sono stati questi tra virgolette attacchi perché si inizia a parlare della narrazione biblica e quindi della concezione patriarcale della società e quindi anche della religione della gestione familiare delle attività sociali ma poi iniziano a essere sfruttati gli argomenti che sono più tipicamente indicati in questa lotta femminista, una lotta femminista che noi ben conosciamo ma che poi invece prendono sempre quel tono neanche tanto distopico ma che viene utilizzato nelle distopie proprio per corrompere, per snaturare invece il reale messaggio religioso. Infatti qui senza neanche tanta originalità perché è successo già in altre fiction, in altre narrazioni di finzione, è come se Dio scendesse sulla terra di nuovo attraverso alcuni personaggi presentandosi non come Dio padre ma Dio madre quindi rivoluzionando tutta la scelta dei profeti che sappiamo essere uomini e donne come appunto una scelta di profeti solo femminile e addirittura la figura di Cristo viene completamente desaturata dei propri poteri, tra virgolette poteri, del proprio significato, a dispetto e a favore invece della figura della madre. Questa realtà che viene così costruita a partire dalle scritture me la sarei forse aspettata un po' più realistica, un po' più eviscerata, più studiata proprio perché la Alderman proviene da ebrei ortodossi e quindi mi sarei aspettato forse qualcosina in più però ovviamente stiamo parlando comunque di un romanzo evidentemente non ci ha voluto tanto calcare la mano ma se la narrazione principale viene fatta attraverso la religione forse un tantino più di credibilità gliel'avrei voluto dare o più probabilmente e qui la concludiamo con questo argomento poi vi aspetto nei commenti ditemi la vostra, mi sento io toccato, mi dà fastidio, mi disturba questo tipo di alterazioni e quindi non riesco a farmelo piacere e ad affascinarmi tanto, tutto può essere. Altri temi ovviamente sono quelli ricollegabili poi alle lotte femministe ma soprattutto al riconoscimento della donna e dei suoi diritti, cosa che non avviene in maniera coeva e uguale e soprattutto immediata in tutto il mondo. Già lo abbiamo detto prima quindi se la donna dell'Occidente è dell'America riesce comunque a fatica a farsi riconoscere e a fare anche un certo tipo di carriera dall'altro lato nella concezione dell'Estremo Oriente è quasi lato Russia tutto questo non avviene perché purtroppo la donna è relegata in certi ruoli che possiamo definire di fattrice della prole e poi ovviamente indicata proprio nella realtà casalinga quindi nulla di nuovo nulla di diverso rispetto a quello che già conosciamo ed è proprio qui dove la donna viene umiliata trattata male violentata il più spesso delle volte che questo potere della corrente elettrica che riescono a generare a partire dalle più giovani e che poi vengono risvegliati questi poteri nelle più anziane nelle più mature questo rende la possibilità per presa di coscienza di queste donne finalmente di ribellarsi a questo status quo e lo fanno in un modo che nella narrazione sembra di una violenza incredibile ma che in realtà per come viene raccontato non fa altro che spiegare il mondo nostro attuale presente e lo fa ovviamente in maniera semplice genuina perché perché finché raccontiamo e leggiamo di un uomo che spadroneggia di un uomo che è violenta sembra che leggiamo qualcosa di non inusuale di un qualcosa di normale quotidiano quasi permesso quando in realtà questa violenza poi viene spiegata attraverso invece le gesta delle donne e questa violenza viene fatta verso l'uomo che attraverso la corrente deve ora dare piacere alla donna e quindi non si importano se poi l'uomo compartecipi a questo piacere e viene quindi utilizzato dalla donna tutto questo sembra sconcertante disarmante fuori da ogni logica ma la alderman non fa altro proprio che utilizzare i temi attuali e le problematiche attuali come se fosse appunto questo manifesto femminista ma in realtà non è un vero e proprio manifesto perché quello che fa lei non è sottolineare le battaglie delle donne per il riconoscimento dei propri diritti ma comunicare la violenza che è sempre stata degli uomini però attraverso ora le gesta delle donne se dovessimo quindi metterli su una bilancia diventerebbe difficile capire chi tra i due generi maschili e femminili si sia comportato effettivamente meglio o bene quando hanno avuto la possibilità quindi di riscattare i propri diritti e questa è una cosa che appunto mette molta agitazione molta angoscia soprattutto perché l'alderman nel suo modo così normale semplice diretto di scrivere le cose ovviamente infarcendole di quella fantasia che è tipica di questo genere riesce però comunque a metterci faccia a faccia con una realtà che altrimenti non avremmo percepito perché purtroppo la consideriamo normale perché è normale che un uomo stupri una donna è normale che le faccia violenza mentale e fisica è normale che la metta relegata in alcuni ruoli e che non le permetta invece di essere capace di fare carriera e di autodeterminarsi normale ovviamente per alcune persone per me tutto questo normale non è e quindi mettermi a confronto con quello che sta accadendo in questa narrazione è veramente importante è quasi liberatorio anche se al tempo stesso diventa difficile leggere una liberazione vera e propria proprio perché è una liberazione fatta con la violenza un linguaggio che comunque fa parte quindi dell'essere umano e che quindi sembra difficile slegare da una battaglia all'altra ne è quindi l'umanità tipicamente intrisa di questa violenza ed è una violenza che accompagna tutta la narrazione è una violenza che accompagna tutti i personaggi personaggi che come ho detto sono per larga parte femminili e che quindi attraverso ognuno di loro posizionato in un paese diverso del pianeta raccontano questa loro realtà come se aprissimo tante piccole finestre in questa narrazione e andassimo a scoprire cosa stanno vivendo quelle donne in quel punto determinato del pianeta in quell'epoca determinata con quella loro cultura con la loro società con la loro religione via discorrendo ma tra queste tante persone che lottano tra cui vediamo una ragazzina che viene stuprata da la famiglia che l'ha adottata che poi finalmente sembra vendicarsi per allontanarsi e ricostruirsi come una persona nuova una donna madre di famiglia che combatte mettendo quasi da parte la famiglia per fare carriera e salire ai vertici più alti della politica americana ma anche donne che semplicemente erano da accompagno di uomini potenti in quella che qui viene raccontata come la moldavia e che poi in realtà grazie a questo loro nuova capacità si rigirano al contrario capovolgono la realtà mettendosi quindi al posto di quell'uomo che le sfruttava di quell'uomo che le usava circondandosi poi di tanti uomini proprio per soddisfare i loro capricci i loro desideri niente più e niente meno di quello che facevano gli uomini al posto loro quindi non sono rappresentate proprio come delle santarelle e a darcene un assaggio importante di tutto questo non è una donna che viene raccontata ma forse l'unico uomo che tra questi personaggi quindi tra queste finestrelle ci viene mostrato ed è un ragazzo che decide di fare il reporter nei posti di guerra spostandosi quindi da un punto all'altro del pianeta per vendere le notizie laddove i giornalisti non riuscivano ad entrare e ad arrivare diventa quindi l'occhio dell'occidente su ciò che accade invece in oriente è una narrazione la sua particolarissima perché attraverso di lui noi abbiamo quel contatto con la realtà attuale nostra che ci permette quindi di vedere in contrapposizione tutto quello che accade dall'altro lato in questa narrazione distopica e quando poi questo personaggio maschile si ritrova a scrivere per la prima volta stanotte ho avuto paura in quel momento è come se la narrazione cadesse tutta su se stessa come in un imbuto concentrandosi proprio su quella paura che normalmente è delle donne delle ragazze che hanno paura di muoversi la sera arrivato a un certo orario in alcune strade della propria città perché è una paura di incontrare qualcuno che possa fare loro del male questa paura invece con il cambiamento del potere che non è più maschile ma femminile ma è un potere sempre basato sulla violenza il soppruso e la paura è una paura quindi che ricade invece sull'uomo che per la prima volta si sente osservato per la prima volta sente il catcalling che viene fatto su di lui per la prima volta quindi si sente spogliato della propria dignità e del proprio valore e quindi messo un po alla mercè di quella che è il volere il desiderio le fantasie delle donne questa narrazione dicevo è importantissima e fondamentale ma ad aiutare ancora di più questo racconto a dare un po le fondamenta e irrobustire questa vicenda il libro è farcito di alcune illustrazioni illustrazioni di opere d'arte che inizialmente sembrano reperti del nostro passato che raccontavano di una cultura e di una società molto più femminista di quella che invece i libri di storia sembrano averci tramandato ma che poi quando arriviamo alla fine e a questo racconto si sostituisce un racconto che abbiamo già visto inizialmente che è fatto per mezzo epistolare iniziamo a comprendere che in realtà il racconto a inizio libro non è un'introduzione fatta tra la scrittrice sotto pseudonimo e alcuni suoi amici riguardo il libro che lei ha scritto ma altri personaggi come se questo libro quindi fosse scritto da personaggi che si scambiano lettere dopo il loro incontro dopo la lettura o meglio di questo libro e scopriamo quindi che questi disegni queste illustrazioni queste opere d'arte in realtà è tutto un frutto di ciò che è stato prospettato e che quindi finalmente è accaduto con lo scadere di quel countdown di cui abbiamo detto di questi dieci anni da qui al futuro che sono quindi finalmente svoltisi quando si prende quindi coscienza di quello che sta accadendo tramite proprio il racconto epistolare la narrazione prende e la storia stessa quindi prendono un sapore diverso inizialmente avevo un po di difficoltà devo essere sincero perché questo racconto così frammentario di personaggi così inizialmente lontani fra di loro mi stava un poco scocciando a lungo andare quando poi i personaggi hanno iniziato a intrecciarsi tra di loro e quindi anche la scansione a capitoli con i loro nomi con i loro occhi era ormai inutile finalmente si è arrivati quasi rocambolescamente a quella conclusione una conclusione che ovviamente ci aspettiamo per i toni che prende per i ritmi sempre più catastrofici in questa spirale di distruzione discendente è normale arrivare quindi a un conflitto che scoppia ma per come sembrava finire la narrazione questo conflitto non sappiamo se effettivamente è accaduto o meno per comprendere tutto questo impianto costruito fino a quel momento abbiamo bisogno di queste lettere a fine libro che ci presentano quindi finalmente una società lontana da quello che abbiamo letto fino a quel momento ma che sembra essere nata da quelle ceneri da quel conflitto che è scoppiato e quindi ci aiuta a mettere ordine in tutti gli indizi che abbiamo letto in tutto il libro e a comprendere quindi che quelle illustrazioni non sono parte della narrazione come se stessero comprendendo dal passato come hanno ottenuto quei poteri le donne ma sono parte di quello che stesso nella narrazione hanno iniziato a creare che poi si sono ritrovati a scoprire nel futuro è un qualcosa di assurdo e probabilmente tutto quel carattere fantascientifico e distopico lo si ritrova particolarmente impresso proprio in queste lettere finali e se quindi era difficile quasi diventato scocciante leggere da metà del secondo step e quasi tutto il terzo il libro si salva proprio grazie a questa finale si salva prende proprio forza diventa fresco nuovo proprio non solo per i temi che tratta ma per come viene alla conclusione mi è piaciuto veramente tanto ne sono rimasto turbato e affascinato sorpreso e sconvolto veramente tante tante contrasti nella scrittura nei fatti che vengono raccontati e quindi anche all'interno del lettore di me che veramente sono senza parole volevo andare magari un po più in profondità raccontandovi i vari personaggi studiandoli al dettaglio ognuno di loro però mi rendo anche conto che è come togliervi il piacere della lettura poi nello scoprire tutti i personaggi ed è una cosa che è bene che facciate voi quindi come sempre il link affiliato del libro lo trovate nell'info box qui sotto se volete acquistatelo io è una lettura che vi consiglio tantissimo perché si parla di politica di società di cultura di religione di diritti ma anche di guerra e c'è una parte prima della conclusione del libro prima di arrivare alle epistole e racconta in maniera molto moderna molto vicina a noi la guerra anche i sintomi di una guerra e vorrei leggervi queste poche righe proprio perché con quello che sta accadendo ora tra la russia e l'ucraina è un qualcosa che in questa narrazione sembrava quasi prospettato ma non perché sta accadendo tra russia e ucraina che sono comunque realtà vicine geograficamente al mondo che qui viene raccontato e alla moldavia che qui viene raccontata ma proprio perché è un ideologia un idealismo che viene portato avanti talmente forte perché distruttivo che non si importa delle persone ma solo delle idee e delle idee più becere che forse proprio per la nota distopica di questa narrazione è talmente forte da sembrare reale e ci dimentichiamo che invece sta già accadendo questi fatti accadono tutti in una volta questi fatti sono un unico evento sono il risultato inevitabile di tutto ciò che è successo prima il potere cerca il suo sbucco fatti come questi sono accaduti in precedenza torneranno ad accadere fatti come questi accadono sempre il cielo che era sembrato azzurro e luminoso si annuvola si fa grigio e nero ci sarà un temporale ce ne ha messo ad arrivare la polvere riarsa la terra è impaziente di essere inondata da un'acqua scura furiosa e scrosciante perché la terra è piena di violenza e ogni cosa vivente ha smarito la sua strada a nord e a sud a est e a ovest l'acqua si addensa negli angoli del cielo c'è sempre questa narrazione molto biblica molto a diluvio universale possiamo dire ma è una realtà che viene raccontata come se stesse sempre per scadere come se stesse sempre per ripresentarsi e il fatto di trovarci ora in questo conflitto non può farci sentire privilegiati perché lontani è un conflitto che ci tocca da vicino perché in un mondo sempre più non tecnologico ma chiuso in una rete che non è chiuso che non racchiude ma che collega e quindi rende ancora più aperto che non mi posso sentire inviolato e intoccato solo perché è un qualcosa che accade mille chilometri lontano da me solo perché accade oltre oceano oltre mare oltre le montagne fa parte del mio stesso pianeta fa parte della stessa umanità di cui faccio parte e forse è questo anche il sentimento più importante che qui viene raccontato che serve forse a unire finalmente gli uomini e le donne in quell'umanità unica in quel genere unico che quindi vive sul pianeta diventare il prossimo l'uno dell'altro forse questo più importante di qualunque lotta femminista che qui diventa manifesto probabilmente tramite le parole delle pistole finali ma che non vuole essere quel femminismo becero inutile più violento di quello che invece combatte tramite e a causa della violenza patriarcale maschile vivere quindi di estremismi di estremi di fanatismi non serve praticamente a niente perché non fa altro come si vede qua dentro e come si vede purtroppo nella cronaca attuale non fa altro che esacerbare ancora di più gli animi e renderci molto meno umani di quello che invece siamo quindi io vi auguro di leggere questo libro di riscoprire l'umanità che avete dentro di voi e non di rivedere il femminismo che c'è dentro di ognuno di noi ma riconoscere che le donne non sono diverse dagli uomini che le diversità che hanno le donne sono quelle diversità che arricchiscono l'uomo e quelle diversità che hanno gli uomini sono quelle diversità che arricchiscono le donne è un dare avere continuo che non è solo il piacere che si può dare e che si deve ricevere a scapito dell'altro ma è un costante flusso e forse se si riconosce si possono evitare eventi simili vi aspetto nei commenti qui sotto ditemi la vostra sono stato molto pesante ma con quello che sta accadendo non potevo non vedere e non leggere questa parte finale del libro in quella chiave perché purtroppo il libro l'ho finito mentre la russia attaccava l'ucraina e quindi purtroppo non vivo fuori dal mondo ci mancherebbe quindi ditemi la vostra vi aspetto nei commenti qui sotto non vedo l'ora di partecipare all'eventuale diretta attivamente o meno con la setta dei libri per conoscere ancora di più quello che è il loro punto di vista anche perché leggerlo solamente negli spoiler del gruppo non basta è bello proprio confrontarsi su questi temi quindi grazie per la visualizzazione per aver passato del tempo assieme vi aspetto nei commenti qui sotto se questa puntata vi è piaciuta fatemelo sapere con un bel mi piace e condividendola con i vostri amici iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione mi trovate in tutti i social network che sono qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono dario questa è il recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronte a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia www.retrattinocenso.it